Nasce anche a Sessaurunca un punto di ascolto dell'Associazione Voce Uomo, l'associazione che si occupa di assistenza nei confronti di uomini che versano in una situazione di disagio e di padri separati o in via di separazione. La presentazione della nuova sede territoriale dell'Associazione è avvenuta sabato 3 dicembre presso il Centro Pastorale Santicasto e Secondino di Sessaurunca. L'associazione nasce nell'ottobre dello scorso anno a finalità di solidarietà sociale ed è volta alla tutela di quelli che sono i padri, in particolare i padri separati o divorziati o che ancora non sono separati o divorziati ma che sono in procinto di farlo e che vivono situazioni di disagio sia dentro che fuori le mura domestiche. Il punto di ascolto dell'Associazione Voce Uomo si troverà all'interno del consultorio di Ocesano Giovanni Paolo II che proprio quest'anno ha aperto una nuova sezione a Sessaurunca. La Diocesi di Sessaurunca ha accolto questo progetto con l'intenzione di creare una rete tra tutte le associazioni che si occupano di tematiche sociali. Credo che la Diocesi stia innescando un meccanismo virtuoso proprio per creare una rete tra tutte le associazioni ecclesiali e non ecclesiali. Questo centro d'ascolto di Sessa con l'impegno di tanti volontari a cui va il mio ringraziamento adesso costruisce questa nuova realtà, questo nuovo dialogo per poter intervenire in un altro segmento delle fragilità umane. All'inizio c'è stato un po' di timore da parte soprattutto degli uomini che devono mettersi a nudo raccontando quelle che sono le proprie realtà che purtroppo sono molto tristi, però man mano grazie al nostro aiuto, alla nostra diffusione stanno prendendo coraggio e quindi si rivolgono a noi. La Diocesi inoltre è impegnata in prima linea nella formazione soprattutto delle coppie di fidanzati per creare maggiore consapevolezza e prevenire i rischi e le problematiche relativi alle separazioni coniugali. Sicuramente la formazione, la cura, l'accompagnamento dei giovani fidanzati fino al momento in cui responsabilmente sceglieranno la via sacramentale della costituzione della famiglia è un punto fermo, ma altrettanto importante è l'attivazione di questo sportello pastorale, ufficio pastorale sulle fragilità familiari che sta dando già buoni risultati perché comunque le persone che vivono questi momenti di difficoltà umana oltre che nella fede e ovviamente tutta la persona che è coinvolta trovano qualcuno che li accoglie e soprattutto che li accompagna orientandosi a mantenersi ben fermi e agganciati all'interno di una comunità. Grazie. 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 Grazie.